Ciao a tutti, oggi andiamo di didattica, quindi aggiungiamo una pillola didattica per quei ragazzi che vogliono studiare questo bellissimo strumento che è la batteria. Parliamo del paradido doppio in tre modi, quindi con gli accenti che cadono in modi diversi. Il primo sul primo quarto. Il secondo con l'accento sul terzo quarto. Il terzo con l'accento sul levare del terzo quarto. Ora che succede? Li mettiamo insieme, quindi andiamo a suonare con la sequenza del primo, secondo e terzo paradido doppio. Benissimo, ora aggiungiamo un ostinato con Cassa e Charleston, sempre in tempo ternario. benissimo, giusto per capire l'ostinato. Andiamo a mettere adesso tutti e tre i paradido su questo ostinato. Benissimo, adesso faremo una sorta di orchestrazione sul tom timpano rullante. Per ripartire da capo, quindi andiamo a rifarlo. Benissimo. Andiamo a farlo adesso con l'ostinato. Adesso andiamo a suonare, sempre in tempo ternario, un afro cubano. andiamo a farlo adesso con l'accento. E' vero. 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 ecco la bellezza dicevo di un rudimento che si può arricchire sul set e si può anche legare a un ritmo quindi spero che questa cosa vi sia piaciuta quindi paradido il doppio intanto studiamo il paradido il doppio e poi faremo tutto il resto ok con l'ostinato con un afro google in tre e poi faremo suoneremo tutto ciao a tutti ciao